Ecco l'entrata in campo, qua ci troviamo al campo sportivo Marcello Di Meco del quartiere Santa Rita, ex 167, Virtus Castelfrentano con la classica maglia bianca con gli sforzi giallorossi e Lanciano Calcio 1920 con la tenuta giallo, blu pantalugini blu, calzettone bianchi. E' la gara di campionato provinciale categoria, volete fare una foto, eh? Vi volete fare una foto? Niente, eh? Abbiamo la panchina, le prime linee in panchina, eh, Ceroli, Alessio, Federico, il Michele, Alex e Lele. Ah ecco c'è anche il nostro Gabriele e t'è intimata in versione collaboratore dell'arbitro, c'è anche il mister Giovanni, c'è anche il mister Giovanni sempre in panchina. No, ammantete vai a essere qua. No, ho vingiato che devo fare il primo ball in gara del campionato, eh. Ecco è iniziata la gara, qua ci troviamo al quartiere Santa Rita, ex 167, all'impianto sportivo Marcello Di Meco, nella gara di campionato, Virtus Castelfrentano con la seconda divisa di colore bianca con risvolti giallorossi e il Lanciano Calcio 1920 con la divisa gialla, pantaloncini, blu chiari e calzettoni bianchi.